Lei prevede un price war? Non credo che ci sia un tema di price war, perché poi alla fine Open Fiber è un'infrastruttura, mentre Telecom Italia gestisce ovviamente anche i servizi a livello retail. Noi abbiamo come partner Open Fiber, ma tutta la parte retail la offriamo come Wind 3. Non è un tema di guerra dei prezzi, secondo me la competizione infrastrutturale in alcune realtà e in alcune città italiane può fare soltanto bene, perché accelera il roll out di queste tecnologie. Quindi penso che siano molto più i vantaggi che non i problemi.